Un italiano di 26 anni e un liberiano di 31 sono stati denunciati dalla polizia per occupazione abusiva di uno stabile in disuso in zona Contramure San Michele. I due sono stati riconosciuti dagli agenti delle volanti mentre camminavano in Viale Roma. Condotti in questura sono stati sottoposti a fotosegnalamento. Al 31enne liberiano inoltre è stato sottoposto un'ingiunzione di pagamento di 200 euro emessa dalla prefettura per non aver attemperato al pagamento di una sanzione per violazione della normativa anti-covid.